Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Da quando il Marvel Cinematic Universe ha portato in auge l'idea di un vasto universo cinematografico condiviso e interconnesso, ci sono stati vari tentativi di replicare questo schema da parte di diversi brand cinematografici. Abbiamo il Monsterverse oppure il DC Expansed Universe o come si chiamerà adesso. Quindi mi sono chiesto, come potrebbe essere un Jurassic Universe, ossia un universo condiviso ed espanso dedicato alla saga di Jurassic Park e Jurassic World? Segnalo subito che si tratta di un esercizio di fantasia e quindi come tale va inteso. Un po' di palestra per le nostre affamate menti jurassiche. Partiamo dai film spin-off o stand-alone che dir si voglia, pellicole autoconclusive che potrebbero andare ad approfondire maggiormente alcune parti dell'universo di Jurassic Park. Non posso che cominciare da un film che mi piacerebbe un sacco vedere, chi mi segue avrà già capito a cosa mi riferisco, ossia Nublar 1994. Dopo i traumatici eventi accaduti al Jurassic Park, l'anno successivo la InGen inviò una squadra di ricerca su Isla Nublar per reperire maggiori informazioni e per controllare lo stato dell'attività dei dinosauri. Durante la spedizione furono scoperti segni di un probabile sabotaggio ai danni del parco e soprattutto che i dinosauri erano riusciti a sopravvivere all'assenza dell'amminoacido lisina, occupando via via tutta l'isola e creando un proprio ecosistema. Un'isla Nublar dove la natura sta cominciando a riprendere il sopravvento sarebbe una location a dir poco perfetta. Inoltre potremmo rivedere alcune star del primo film come Rexy, i dilophosauri e magari qualche altro dinosauro non apparso nel film del 1993. Un altro possibile film stand-alone da inserire nel nostro vasto Jurassic Universe potrebbe essere Hammond Rise of InGen. Sì, il titolo è buttato totalmente a casaccio e forse sembra più idoneo per una pellicola tema Transformers. Ad ogni modo si tratterebbe ovviamente di un film dedicato a John Hammond, alla nascita della InGen, fino alla costruzione del Jurassic Park, con annesse ricerche genetiche e magari anche con i primissimi dinosauri riportati in vita dopo milioni e milioni di anni. Quanto mi piacerebbe vedere a schermo il passato della temibile The Big One e di come abbia preso il controllo del branco dei raptor di Isla Nublar, come ci viene accennato da Robert Muldoon in Jurassic Park. Pure mi piacerebbe vedere l'allestimento dei grandi recinti e delle infrastrutture pensate per contenere le attrazioni. In parallelo magari si potrebbe anche inserire il filone narrativo di Doxon e della Biosyn, facendo comprendere allo spettatore come siamo arrivati a progettare il tentativo di sabotaggio affidato allo scontento Dennis Nedry. Sarebbe insomma un prequel diretto di Jurassic Park, con il compito di maneggiare per bene il background del primo iconico parco. Online ogni tanto escono dei rumor, circa un possibile progetto dedicato proprio ad Hammond e alla sua InGen, ma credo che non ci sia nulla di così serio in realtà. Volendo, il nostro Hammond Rise of InGen potrebbe anche declinarsi con successo sotto forma di miniserie da 4-5 episodi, volendo prendersela con un po' più di calma. Un altro sogno nel cassetto sarebbe quello di un film stand-alone che approfondisca gli avvenimenti che hanno portato a Jurassic Park 3, ossia gli esperimenti segreti condotti su Isla Sorna alla fine degli anni 90. Potremmo così assistere con i nostri occhi alla creazione dello spinosauro, dell'anchilosauro, del ceratosauro e non solo. E soprattutto potremo rivedere la nostra amata Isla Sorna, che giace nel dimenticatoio da ormai troppo tempo a livello cinematografico. Per questa pellicola mi immagino un titolo del genere Jurassic Park Project Amalgam, oppure Jurassic Park Secrets of Sorna, che sarebbe forse anche più commerciale come titolo, in effetti. Verrà mai realizzato questo film? Temo proprio di no, ma qui non si va da spese e quindi possiamo immaginare un po' tutto quello che vogliamo, in pieno stile Hammond con annesso sorrisone sul viso. Spostiamoci ora sul versante Jurassic World, dove credo si possa inserire almeno un altro film, diciamo sequel, di Jurassic World Dominion. Non è un segreto che il personaggio di Macy Lockwood possa raccogliere il testimone di protagonista per una pellicola che ci mostri finalmente un mondo dove dinosauri ed esseri umani convivono e coesistono. In Dominion alla fine questa cosa non si è vista molto. Macy ha un fortissimo legame con tutto quello che riguarda i dinosauri e la InGen, possiede anche un forte legame affettivo con Owen e Claire, quindi insomma potrebbe essere l'astro nascente della preservazione delle specie di dinosauro diffuse nel mondo. Anche perché la caduta della Biosyn dopo il caos scoppiato nella sua vallata potrebbe portare potenzialmente a un maggiore caos e alla proliferazione di nuovi conglomerati e gruppi di ricerca genetica privi di particolari scrupoli morali o etici. Quindi, come lo vogliamo intitolare questo sequel di Dominion? Jurassic World? New World? Molto banale, vero? Però alla fine un nuovo mondo è ciò che vediamo nelle ultime sequenze di Dominion, con dinosauri nella savana, nelle foreste e in altri habitat. Quindi, beh, New World lo possiamo anche approvare. Se volete proporre un altro titolo, beh, condividetelo nella sezione commenti, ovviamente. Un altro personaggio che attualmente è al centro di alcuni rumor come protagonista di un progetto stand-alone è Kyla, la coraggiosa e sprezzante pilota che aiuta Owen e Claire a raggiungere la Biosyn Valley dopo il rapimento di Beta e Macy Lockwood a Malta. Ora Kyla come personaggio non mi ha colpito moltissimo, quindi non avrei tanto trasporto verso un film o una serie dedicata a lei. Tuttavia, se fosse ambientata prima di Jurassic World Dominion, potrebbe fornirci qualche informazione extra riguardo l'ascesa della Biosyn di Louis Doxon, che tra Fallen Kingdom e Dominion spunta un pochino dal nulla, divenendo celermente un colosso scientifico diffuso a livello globale e dall'influenza internazionale. Nel nostro Jurassic Verse, sezione Jurassic World, non possiamo non inserire anche qualcosa di animato, qualcosa che riprenda lo stile di Camp Cretaceous, che ha visto la quinta e ultima stagione della serie targata Netflix e DreamWorks, sa benissimo come il finale si situi proprio nel contesto di Dominion, portando quindi i sei di Nublar, ormai cresciuti, a contatto con la nuova realtà post-Fallen Kingdom. L'assist per una serie animata, appunto in salsa Dominion, è abbastanza evidente, quindi mi sento di inserirla attivamente nel canovaccio di un Jurassic Universe. Come trama mi immagino sempre un qualcosa incentrato sulla tutela dei dinosauri, con Darius in prima fila e la banda dei sei di Nublar che si riunisce ancora una volta. Non sono mai stato un grande fan di Camp Cretaceous nel suo complesso, soprattutto dalla terza stagione in poi, ma trovo sensato che un universo condiviso ed espanso si declini anche nella serialità animata. Titolo per il sequel di Camp Cretaceous? Questa è semplice dai, The Six of Nublar, ossia appunto i sei di Nublar. Volendo, l'animazione, anche con stili e un target diverso, magari più adulto e serio, potrebbe trattare altri passaggi della saga giurassica. Sappiamo come l'animazione per adulti stia vivendo un buon periodo, anche sulle piattaforme di streaming più famose, quindi, perché no? Che dire, abbiamo raccolto già una considerevole quantità di materiale che potrebbe coprire anni e anni di pubblicazioni cinematografiche per il nostro Jurassic Universe. Ma uno scenario del genere è realistico? Allo stato attuale delle cose temo purtroppo di no. Temo che Universal non intenda imbarcarsi in un simile progetto, complesso e articolato. Alla fine ben pochi universi condivisi hanno funzionato realmente bene, l'MCU e il Monsterverse, quindi credo che rimarrà solo un sogno per noi grandi appassionati della saga giurassica. Ad ogni modo sono molto curioso di sapere come si andrebbe a comporre il vostro Jurassic Universe, quali film e serie tv andreste ad includere. Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Sui social cercate e seguite Lorenzo Divus. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!